Si chiama Lavori in Corso, il filmato realizzato da un gruppo di alunni della Petrone di Campobasso che hanno preso spunto dalla Stiker Art di Cleta Abram, lavoro con il quale hanno vinto il primo premio del cinquantesimo concorso nazionale EIP Italia dedicato ai principi universali dell'educazione civica, un progetto fortemente sostenuto dal dirigente scolastico Giuseppe Natilli. È stato realizzato un progetto che aveva a che fare con i temi della sicurezza stradale e gli alunni della classe quinta primaria dell'anno scorso hanno vinto un premio a livello nazionale presso l'EIP Italia. Si sono ispirati alla street art di Cleta Abram. Noi lo abbiamo contattato, siamo andati a trovarlo a Firenze e lo abbiamo invitato qui a scuola. Oggi abbiamo l'onore di aver avuto la sua presenza nel nostro auditorium in un laboratorio interattivo con i ragazzi. Per noi è davvero un momento particolare per la nostra scuola, particolarmente emozionante perché gli alunni hanno potuto incontrare colui che ha creato la giusta ispirazione per poter realizzare il progetto e arrivare a ricevere il primo premio nazionale sulla sicurezza stradale. I ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrare proprio Cleta Abram nel corso dell'iniziativa che si è svolta all'interno della loro scuola. Lavoro sui cartelli stradali, lavoro per strada sui cartelli stradali. Intervengo mettendoci un alto grado di lettura per valorizzarlo, umanizzo il messaggio del cartello stradale che ha tendenza a non essere considerato perché è un pensiero unico, perché è sempre la stessa cosa, perché ce ne sono troppi. Insomma la gente non le guarda. Le rendo interessanti e così poi la gente le guarda. Tendenzialmente ci metto dei personaggi, un piccolo mino lo chiamo, che racconta una storia nella sua attitudine, nella relazione col cartello, perché un divieto, diciamo, lui si sente interpellato dal divieto e reagisce di conseguenza. Quindi sono delle piccole storie molto sintetiche, molto semplici per giustamente non invadere troppo il segnale, che creano un qualcosa in più.